il famoso calciatore ed in seco sarebbe risultato positivo al covid 19 al coronavirus lo annuncio lo avrebbe dato lui stesso attraverso instagram in particolare il post sarebbe il seguente adesso ve lo leggerò ciao a tutti purtroppo sono positivo al covid 19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena voglio però tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono fortunatamente non ho sintomi particolari per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni ma con la mente e con il cuore starò con loro a cominciare da domenica dagli ragazzi forza roma seco dunque quindi vi ricordo che con ogni probabilità non sarà presente domenica contro il genoa in questa partita di calcio però sarà indisponibile per la nazionale della bosnia sua terra nativa infatti mi ricordo che la sua nazionalità è bosniaca vi ringrazio ringrazio per la visione infinitamente per l'ascolto di questo video di oggi cari esimi utenti di youtube iscrivetevi se vi vanno mi raccomando commentate fornitemi la vostra opinione questo video non vuole lei della praga si vede in seco ma solo informare eventuali persone di ciò che di recente sarebbe accaduto nel piano rispetto della praga di seco e della sua famiglia a cui mando un sentito abbraccio e una forte stretta di mano grazie a tutti al prossimo video le andron narrato che si chiama grazie a tutti